Un fotocopia di tante altre gare, non recentemente, perché recentemente venivamo da una partita a Casal Pustellengo dove avevamo avuto una stabilità e un equilibrio diverso, stasera non l'abbiamo fatto e siamo andati sotto presentemente nel punteggio, ma come poi succede a questa squadra, allo stesso modo in cui non trova il bando della Matassa, poi improvvisamente lo trova e quando lo trova ci crede, quindi ci sono come sempre aspetti positivi e aspetti negativi, gli aspetti positivi è che ci credi e che l'energia per rimetterla in piedi nell'ultimo quarto l'hai trovata, quindi se mi piace la devi anche prima, gli aspetti negativi sono che quell'energia la devi mettere subito, perché venire a giocare una partita con una squadra che si gioca una fitta di campionato e pensare di essere difensivamente morbidi come abbiamo fatto nel primo tempo, significa poi consegnarsi nel mare ai tuoi avversari e questo è stato quello che è successo, quindi questa squadra mostra di nuovo le specie facce, quindi questa volta non abbiamo confermato i progressi di Casal Pisterlego, dove avemmo 10 minuti di blackout, oggi ne abbiamo avuti 30 di minuti, 29 di minuti, 28 e chiaramente quando vieni trasferta, se non hai la personalità e la durezza mentale per giocare per 40 minuti, poi alla fine abbiamo deciso dei bisogni, i bisogni sono stati buoni per biello, perché hanno fatto due canestre molto difficili, uno fermo, se non uno mai collo, perché hanno deciso di raggiungere. No, rimane che bisogna andare a giocare la fina tra 72 ore e bisogna andare alla fine a dimissione, quando si pensa all'impianto e rabbia serve da poco, c'è rabbia, c'è rimpianto, però poi il nostro lavoro è a generale di partire, ci abbiamo partito molto vicina, non è tempo di fare, come posso dire, processi piuttosto che delle grandi recuperazioni filosofiche, c'è bisogno di recuperare l'energia e metterci di nuovo sul pullman e andare a giocare la taglia. Ma allora io l'ho detto tante volte, questa squadra è partita per un obiettivo, che è quello di salvarsi e cercare di farlo senza soffrire e da quel punto di vista la Brasilia ci arriva, abbiamo un record di 6 vinte in casa e una persa, purtroppo in trasferta una vinta e 7 perse, questo non significa che in casa vinceremo sempre e in trasferta perderemo sempre, però è chiaro che di questa squadra si possono chiaramente identificare i pregi e i difetti e su questo non c'è dubbio, però dobbiamo sapere anche come l'abbiamo costruita, quali sono le risorse che abbiamo utilizzato per costruirla e quali sono le difficoltà di riuscire ad avere un impianto di squadra stabile dell'equilibrato con una squadra così nuova, quindi queste sono tutte le considerazioni. Dal punto di vista della classifica secondo me non ci sono rimpianti o rammarichi particolari, dal punto di vista della nostra crescita e di quanto stiamo in campo con stabilità è chiaro che dobbiamo fare dei progressi che fino ad oggi abbiamo visto soltanto a tratti e questo è abbastanza evidente, però è un campionato che ti mette davanti ogni settimana a una sfida diversa, quindi secondo me c'è anche poco da parlare, c'è da fare, ci siamo preparati per una settimana per togliere la mano sinistra a Ferguson e l'abbiamo fatto veramente troppe poche volte rispetto a quello che era necessario fare, quindi questo mi dà l'idea del livello di personalità che abbiamo messo nella partita di stasera, così come nell'ultimo quarto avete visto una squadra che ci crede anche sotto di 20 e questo è un tesoro che dobbiamo portarci dietro, insieme a questo tesoro ci dobbiamo montare tutta una serie di pezzi che qualche volta vanno al loro posto e tante volte soprattutto in trasferta non sono andati al loro posto.